La Pocciatti Il CEO è Art Director di Opinion Chatty, la mia azienda, siamo di base a Firenze e le radici di tutta la nostra brand identity sono legate al nostro territorio e alla nostra città. Una città magnifica da tutti i suoi punti di vista che mi dà ispirazione per tutte le nuove collezioni. Quest'anno presentiamo al Salone del Mobile Follow Your Roots che prende ispirazione appunto dal Medioevo fino ad arrivare ai primi anni del Rinascimento. Un periodo di grande bellezza e di storicità. Quest'anno presentiamo tre nuove collezioni in esclusiva. La prima, che è una nuova tipologia che non abbiamo mai presentato fino ad oggi, è una collezione di tappeti stampati in collaborazione con Sebastiano Tosi, un giovane designer emergente, con la quale abbiamo immaginato di cambiare il punto di vista, cioè di guardare verso il cielo. Verso il cielo nella nostra città, meravigliosa, scopriamo dei soffitti di chiese e di basiliche straordinari ancora oggi che possono essere contemporanei. Quindi abbiamo deciso di selezionare come prima edizione la cupola disegnata da Michelangelo della Sagrestia Nuova e di Brunelleschi della Sagrestia Vecchia. Oltre a questi presentiamo anche un soffitto ed un cortile di un palazzo storico medievale fiorentino. Un'altra nuova edizione che abbiamo proposto quest'anno in collaborazione con un giovane designer dello studio Scrivo, è una collezione di lampade dove la caratteristica principale è un'elaborazione ripresa dal passato del ferro magliato. Questo ferro magliato, ogni pezzo è irregolare proprio perché si usa questa tecnica della fucinatura a caldo del metallo. Un'altra particolarità è poi l'applicazione di finiture preziose come l'oro e il nickel che ne rendono tutti i pezzi unici. La terza edizione nuova di quest'anno è uno sgabello, in questo caso l'ispirazione l'ho avuta da un fatto storico. La storia ci racconta che nei primi dell'Ottocento ci fu una grande sommosso popolare per un'introduzione di una nuova tassa, che sembra tuttora attuale come è fatto. L'etimologia della parola sgabello appunto deriva dalle gabelle che erano delle leggi medievali e ci fu un'insurrezione popolare detta anche la grande sgabellata. Proprio per questo questo prodotto l'ho chiamato De Gabello. Quindi questo è un altro riferimento storico perché diciamo le ispirazioni possono avvenire diciamo o passeggiando per la città di Firenze che ogni angolo e scorcio di strada può portare a una alzando gli occhi al cielo e portare a una ispirazione visiva oppure anche a delle riferimenti storici come in questo caso. Presentiamo inoltre delle nuove edizioni di prodotti già esistenti nella collezione, una ridizione di finitura sul nostro bestseller Ptolomeo che si veste il Corten, una nuova dimensione della poltrona Guelfo, questo bel divano dove sono seduto, dove si raddoppia e quindi può accogliere più di una persona rispetto alla poltrona presentata precedentemente e delle nuove finiture sulla nostra sede a Mamma Mia. Follow your roots, il viaggio continua. Grazie a tutti.